Non l'ho detto io, ascolto. Stefano. Come siete? Come che conclusione fai? C'è più pressione. La squadra deve giocare meglio. Dici una cosa vera, sì ho capito, però... Oppure... Anche a me piacerebbe... ...dare alla categoria, insomma... Ma no, guarda, io faccio una disamina abbastanza lucida in questo senso qua. Quando giochiamo con i tre giocatori aperti davanti, le catene di gioco sono molto più facili da trovare perché abbiamo dei riferimenti esterni. Con questo sistema di gioco, non avendo nella posizione di trequartista un giocatore con le qualità di saltare l'uomo, non so, il bigennaro dell'anno scorso, così capite l'esempio, diventa un sistema di gioco un po' compassato, un sistema di gioco magari dove viene meglio andare alla caccia della palla o andare al recupero della palla per poi giocare sulla ripartenza. Nella costruzione non ci sono catene logiche perché non c'è riferimento sugli esterni sostanzialmente. Bisogna che ci andiamo con la mezzala o con il trequartio o con una punta che allarga. Ci viene meno bene perché non abbiamo quel tipo di giocatore là. Siamo forse meno belli, siamo forse più concreti nella fase difensiva. Penso che non sia un caso se dietro soffriamo di meno. Stefan Heidel.